Ciao a tutti, con alcune persone parlavamo di in che modo gli spiriti influenzano la nostra vita diariamente. Se ci sono gli spiriti, in quanto tutti siamo spiriti, solo che la differenza è che alcuni spiriti come noi siamo incarnati ed altri sono disincarnati, ovvero hanno perso il loro involucro di carne, in che modo questa interazione fra gli spiriti incarnati e disincarnati avviene? Ebbene, per rispondere a questo, sulla base di tutto quello che in questi ultimi cento anni è stato un po' scritto e che sappiamo, dobbiamo dire principalmente una cosa, nello stesso identico modo nel quale ci si influenza fra persone in carne ed ossa, identico, non cambia niente. Una frase che per me è molto calza a pennello come si dice in questi casi è dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Siccome la comunicazione sia fra persone in carne ed ossa, che fra persone spiriti, che fra spiriti e spiriti, poi si vede, si sa anche questo, da molte canalizzazioni di medium importanti, ecco, e da tutti questi anni di studio dello spiritismo che è una vera e propria dottrina, no? Bene, questa comunicazione arriviene a livello non verbale. Come avviene questa comunicazione? A livello di vibrazione, nello specifico una vibrazione che ha a che vedere col magnetismo, ovvero tra persone c'è una gran parte di comunicazione appunto verbale, corporea, però c'è un'altra parte molto forte che è semplicemente vibrazionale, cioè quello che praticamente tutti noi avvertiamo indipendentemente da quello che ci dicono. Per far un esempio semplice, un amico nostro sta male e tu gli chiedi come vai, lui ti dice tutto bene, però tu sai che non sta bene, perché lo puoi leggere nei suoi occhi, lo puoi leggere in una sua espressione nonostante cerchi di sorridere, lo puoi leggere su qualcosa di impalpabile che te lo comunica e questa è questa vibrazione. Da un punto di vista di aspetto tecnico, di quello che sappiamo, io faccio sempre molto riferimento alla dottrina spirita perché è quella che più scientificamente ha affrontato l'argomento. Da un punto di vista tecnico, praticamente il corpo nostro è come diviso in tre parti. Una parte è l'involucro che è il nostro corpo fisico, quello che noi ci tocchiamo. Una parte è il perispirito che sarebbe una specie di involucro di energia, come immaginate, uguale al nostro involucro in carne ma fatto di energia e quindi con una plasticità molto più grande perché si può espandere noi e ha la possibilità appunto di portare informazioni di vibrazione. E poi quella che si chiama, alcuni chiamano spirito o altri chiamano anima, che sarebbe praticamente l'essenza della scintilla divina, cioè la nostra anima che è quella poi che si rincarna, è quella poi che fa tutta l'evoluzione, è quella che si considera immortale. Quindi sulla base di questo diciamo come che l'anima attraverso il perispirito manda un'informazione vibrazionale alle persone e questo è il linguaggio non verbale che succede tra persone incarnate e incarnata, ma nello stesso modo succede fra persona incarnata e disincarnata o anche fra due spiriti. Comunque parliamo in questo caso di una vibrazione di comunicazione fra una persona incarnata, in carne ed ossa, viva sul piano terreno e una persona viva sul piano spirituale, quindi disincarnata. Questa comunicazione attraverso i due perispiriti, cioè questi involucri non di carne, non più di carne, ma questi involucri di energia, di fluido vitale, di fluido magnetico che emanano una vibrazione. E allora come succede questa comunicazione? Basicamente come dicevamo prima nel proverbio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Se noi decidiamo nella nostra vita di fare una vita come dire totalmente all'avventura e non lo so ci riuniamo tutte le sere, beh adesso non fate conto in un momento in cui si poteva, tutte le sere con persone beviamo e sono tutti che non gliene importa niente del futuro, vivere la giornata e tutto bevo, fumo, faccio di tutto di più e decido di vivere una vita così, un po' alla perdizione diciamo. Le vibrazioni che vado a emanare sono quelle di si considerano di bassa vibrazione perché si considera che uno stile di vita così porta a non elevarsi, no? Per tutta una serie di motivi e non voglio mettere in campo un motivo morale ma proprio un motivo di evoluzione dell'anima che è più profondo, no? Come dire se tu ti butti totalmente al piacere fisico diciamo che dando tutta l'importanza al piacere fisico di un corpo fisico è difficile che vai a elaborare o a approfondizzare la spiritualità, no? Non hai neanche il tempo né la lucidità per farlo, quindi ovviamente la tua vibrazione sarà quella. Lo spirito disincarnato che gira magari ancora su questo piano strale o in un piano strale basso e sente quella vibrazione si avvicina perché la riconosce e come tale quello spirito entra in comunicazione con quella vibrazione e è lì che si creano questi casi di presenze che rimangono sempre intorno a noi che ci mettono anche la loro vibrazione aggiunta alla nostra. Quindi se uno tende a essere un po' non lo so a essere una persona che beve tanto magari lo spirito di uno che ha bevuto tanto ti fa bere ancora di più. Una persona che si intristisce o tende alla depressione lo spirito di una persona depressa ti fa sentire ancora più depressione perché in qualche modo quella vibrazione sua influisce ed influisce sul tuo pensiero. Quindi pensieri che tu credi essere tua tuoi invece sono dei spiriti che si allineano a quella vibrazione. D'altro canto nello stesso identico modo più lavori la tua spiritualità non lo so una persona che decide un certo punto della sua vita dedicare un po di tempo magari a fare dello yoga a fare la meditazione o semplicemente a leggere dei libri costruttivi dei libri che ti aprono la mente a cercare di migliorare delle parti del proprio carattere per convivere meglio nel mondo tutto quello che è un lavoro di elevazione spirituale quella vibrazione inizia allinearsi con spiriti che vibrano più in quella vibrazione. Allora magari anche buoni spiriti o spiriti più elevati si avvicinano o riescono a interagire di più con te dandoti migliori consigli portandoti su una strada più buona o semplicemente sentendo che tu ti purifichi a livello vibratorio e quindi essendo più presenti e anche più in qualche modo aiutandoti di più perché fondamentalmente come nella vita da incarnati in base alle scelte che fai le persone che scegli di frequentare cambia molto le possibilità la rossa di possibilità che ti si apre è inutile dirlo l'esperienza di tutti noi sa che è così e quindi ovviamente come lo è sulla vita sulla terra e si ripeterà nello stesso modo dopo quando già siamo spiriti e per quelli che sono già spiriti siccome sono sempre in dialogo con noi perché il dialogo esiste e anche se è inconscio anche se non ce ne rendiamo conto e si succederà nello stesso modo quindi se per esempio per concludere il concetto noi entriamo in un posto dove c'è molta negatività perché le persone sono perse c'è depressione c'è rabbia c'è perdizione c'è disordine sporcizia immaginate un posto non lo so la classica fabbrica abbandonata con le persone con molte persone con problemi di droga abbandonati lì in quell'ambiente ci saranno tutti spiriti negativi che gira intorno che probabilmente in vita avevano già fatto quel tipo di esperienza e che finché loro stessi come spiriti non trovano un'evoluzione che è un percorso che devono continuare a fare spiriti rimanendo lì a creare ancora più questa energia pesante paradossalmente se uno si immagina di entrare in un bel centro e olistico non lo so in un tempio buddista dove ordine pulizia perché sono molto importanti l'ordine della pulizia e credetemi sono parte fondamentale della spiritualità e sembra una sciocchezza ma è così ordine pulizia non lo so questa già entra uno entra e sente la pace entra sente la pace perché quelle vibrazioni che si emanano attraverso la meditazione attraverso la cultura anche di un'alimentazione sana di un amore verso il prossimo perché l'amore fondamentale bene entriamo in un ambiente così già solo ce lo immaginiamo ci immaginiamo già uno stato di vibrazione molto più pulita e in uno spazio del genere non ci saranno presenze di spiriti negativi molto difficile che ci siano perché perché tutta questa vibrazione alta si associa a spiriti elevati e quelli saranno gli spiriti che porteranno consiglio e porteranno aiuto in uno spazio del genere per questo che per concludere se non vogliamo influenze negative da parte degli spiriti dobbiamo lavorare su di noi più lavoriamo sul nostro benessere sulla coscienza sull'elevazione morale sull'amore e cercando di togliersi tutte le cose che sappiamo benissimo perché tutti noi lo sappiamo ci portano a cadere in uno stato di sofferenza più ci eleviamo questo per quanto riguarda ogni situazione di vita è una situazione di vita difficile di persone con malattie croniche con tante difficoltà e tutto dove regna l'amore nella famiglia regna una vibrazione alta e regna aiuto e regna positività allo stesso modo situazioni difficili dove regna la rabbia la colpa e ci si offende tutto il giorno magari non so i genitori che si offendono con i figli e conflitto costante regna appunto questa disgregazione e quindi è lì dove entrano tutte le spiritualità negative e si associano in qualche modo aumentando questi pensieri terribili no quindi più si lavora su di noi più si fa un percorso di elevazione di vibrazione che su internet troverete mille informazioni in questo senso e più allontaniamo naturalmente tutte quelle che sono le spiriti negativi fino a scongiurare le classiche possessioni che si vedono tipo l'esorcista che sono proprio situazioni dove una spiritualità molto negativa è riuscita a infilarsi nella vita di qualcuno per concludere a volte una persona molto sensibile immaginate un bambino molto sensibile molto aperto con i canali molto aperti non perché lui stesso emani una vibrazione negativa ma perché si trova in un luogo dove ci sono questi spiriti negativi può trovarsi ad avere uno spirito negativo che gli viene a dare noia e gli si come dire gli si associa e lo ossessa semplicemente perché per la sua sensibilità capito per la sua capacità di recepire quindi anche i posti che uno frequenta sono in qualche modo come dire nella casa abbandonata dove sappiamo che hanno ucciso cinque persone brutalmente non entriamo ecco piuttosto evitiamo di farlo questo anche è una cosa importante da sapere e quindi morale della favola gli spiriti ci influenzano nel pensiero prima di tutto pensieri che noi pensiamo essere nostri in realtà non lo sono e poi faremo un video per anche per questo argomento di come detettare pensieri che non sono nostri e ci influenzano aumentando i lati negativi o positivi della nostra vita del nostro carattere a seconda di quali spiriti abbiamo intorno considerate che ognuno di noi ognuno di noi ha delle guide spirituali che ci aiutano ognuno di noi ha degli spiriti di luce come dire elevati che ci aiutano ma se uno si chiude completamente con le vibrazioni a un mondo negativo e queste spiritualità non riescono neanche a farsi sentire perché noi non abbiamo la capacità di vibrazione di allinearci con loro quindi se vogliamo l'aiuto le nostre guide spirituali dobbiamo noi arrivare a una vibrazione alta per poter comunicare questo è fondamentale bene spero che sia stato esaustivo e grazie per gli ascolti e per tutte le domande che insomma mi rivolgete anche via mail e whatsapp grazie tanto per seguirmi un bacio a presto grazie